Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video qui su Unbox Italia Oggi proviamo una cover che mi è stata mandata da Mujo Questa marca di cui avevo tanto sentito parlare Avevo visto diversi post, diversi prodotti di questa marca Dopodiché su Instagram vi ho chiesto che tipologia di questa marca di prodotti avreste voluto vedere E avete scelto cover Ed eccola qua Cover by Mujo Cover per iPhone X, per iPhone XS Ecco come si apre la confezione Qua abbiamo un bel po' di dettagli in merito a come è fatta L'unboxing devo dire che è veramente piacevole Questa parte qui è una buonissima protezione, bella rigida Sì sì, è fatta molto bene Una volta tolta la cover, guardiamola tra un attimo Stiamo un attimo concentrati su questa parte dell'unboxing Realizzata in pelle conciata al vegetale di alta qualità Che invecchia magnificamente e diventa parte della tua vita Bella questa scritta Ma vediamo un po' meglio la cover Questa parte dietro porta documenti Cucitura vista Abbiamo i tasti che sono in rilievo Eh non dimenticate un bel like ragazzi Il foro fotocamera un po' più grande Da ospitare sia la fotocamera dell'X che dell'XS E il tasto dall'altro lato E sotto l'immancabile vellutino in stile Apple Con la scritta Mujo in basso rilievo Qua sotto ho trovato questo tagliandino Che è certificato di autenticità Con il numerello dietro Confrontata con la parte interna di una cover Apple In silicone Ho notato molta molta somiglianza Anche la protezione in realtà è la medesima Perché di lato sono proprio uguali E la parte sotto è sempre aperta Perciò niente male Buona qualità davvero Proviamo a metterci dentro il mio iPhone X Eccolo qua che sguscia Intanto premo tutti i pulsanti Annulla Ok Allora diamo un po' meglio un'occhiata da vicino Perché questo foro fotocamera è da vedere Ecco vedete come c'è questo spazio un po' sotto E un po' sul lato destro che resta aperto Per il resto poi qua è predisposto appunto Per l'inserimento di una direi non più carte E la parte sotto è scoperta Proprio classico stile Apple Mi raccomando che alla fine del video Vi dico anche qualcosa di interessante In merito 10 euro gratis con la carta iPer ragazzi Ricordatevelo Ed ecco come sta il vostro iPhone Con dietro una carta in questo apposito slot Allora Vi metto qua sotto un codice in descrizione Che vi dà uno sconto Su qualsiasi prodotto del sito della Mugio Voi vogliate acquistare E' valido fino al 17 giugno Sconto 15% Ragazzi approfittatene perché Sconto 15% più 10 euro sulla carta iPer Ve lo portate a casa Quello che volete Quasi for free E noi ci vediamo domani mattina Con un altro video Sempre alle 9 E noi ci vediamo domani alle Grazie.